In questo video menzionerò 10 problemi comuni che i veicoli Mercedes-Benz classe C203W dal 2001 al 2007 sono inclini a sperimentare. Numero 1. I magneti di regolazione dell'albero a cam e che fanno parte del sistema di fasatura variabile delle valvole in questi veicoli sono soggetti a malfunzionamenti e a guasti prematuri. Questo problema fa sì che il motore sviluppi un minimo irregolare, esitazione in accelerazione e scarso risparmio di carburante a causa della fasatura errata della valvola. Per correggere questo problema è necessario sostituire il magnete di regolazione dell'albero a cam e difettoso. Numero 2. I denti della ruota dentata dell'albero di bilanciamento in alcuni modelli dal 2005 al 2007 dotati di motore a 6 cilindri M272. È soggetto a un'usura anomala che causa problemi legati alla fasatura delle valvole. Per correggere questo problema è necessario sostituire l'albero di equilibratura danneggiato con una nuova parte e installare un nuovo set di distribuzione. Numero 3. La piastra conduttrice all'interno del cambio automatico è soggetta a malfunzionamenti e a guasti prematuri. Alcuni dei sintomi di una piastra conduttrice difettosa sono i seguenti. La trasmissione passa dalla prima alla seconda marcia e rimane in quella marcia. La trasmissione sviluppa condizioni di cambiata difficili. La trasmissione non passerà alle marce più alte. Si consiglia di far diagnosticare a un centro di riparazione qualificato i problemi di trasmissione che il veicolo potrebbe riscontrare prima di sostituire la piastra conduttrice. Numero 4. Il termostato in alcuni di questi veicoli dotati di motore a 6 cilindri tende a rimanere bloccato in posizione aperta. Questo problema fa sì che il motore subisca un ritardo nel raggiungere la normale temperatura di esercizio e nell'impostare il codice P0128. Per risolvere questo problema è necessario sostituire il termostato guasto con una nuova parte di migliore qualità. Numero 5. La pompa del carburante situata all'interno del serbatoio del carburante in alcuni di questi veicoli è soggetta a guasti prematuri. Quando questa pompa del carburante non funziona correttamente o si guasta, provoca l'arresto del motore durante la guida o lo sviluppo di una condizione di mancato avviamento a causa della mancanza di carburante. Numero 6. I cuscinetti delle ruote di alcuni di questi veicoli tendono a diventare rumorosi tra 140.000 e 170.000 chilometri e devono essere sostituiti. Numero 7. La pompa del vuoto in alcuni modelli dal 2003 al 2005 è soggetta a perdite di olio nel tempo. Ci sono aziende aftermarket che realizzano kit di guarnizioni simili a quello mostrato sullo schermo per riparare la pompa del vuoto che perde. Numero 8. Le guarnizioni del coperchio delle valvole nei motori a 4 e 6 cilindri tendono a indurirsi nel tempo causando perdite di olio e devono essere sostituite. Numero 9. La catena di distribuzione in alcuni modelli dal 2003 al 2007 dotati di motore a 4 cilindri da 1,8 litri. Tende ad allungarsi quando i regolatori dell'albero a came hanno subito un guasto prematuro e non sono stati sostituiti in modo tempestivo. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire il set di distribuzione completo mostrato sullo schermo che include i pignoni dell'albero a came. Numero 10. I convertitori catalitici in alcuni di questi veicoli sono soggetti a guasti prematuri. Questo problema provoca una diminuzione del risparmio di carburante e la spia del motore di controllo rimane costantemente accesa sul quadro strumenti. Questi sono 10 problemi comuni che i veicoli Mercedes-Benz classe C203 W dal 2001 al 2007 sono soggetti a sperimentare.